Devo fare un po' di discorsetto con Fabio Conditti. Buongiorno Fabio. Ciao Vito, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Ascolta, prima di chiederti come è andato e come non è andato, c'è stato un telespettatore che mi ha lasciato basito e vorrei, se me lo dici tu che te ne intendi, che sei il presidente di Moneta Positiva, ci posso credere. Ma uno mi ha detto prima, un certo Sandro da Parma, ma lei lo vuol sapere che l'euro è venuto a salvare l'Italia, altrimenti saremmo sprofondati, ma lei sapeva che cos'era l'Italia, la lira in Italia prima? Era nulla, era in balia delle onde. Ecco, quanto c'è di vero in questo? È vero che ha salvato la nostra, l'euro ha salvato la lira oppure quello che ritengo io e che ci ha forzati? Non lo so. L'entrata nell'euro ha creato tutta una serie di effetti, quello più evidente è quello sul rapporto di cambio fisso con gli altri paesi. Tu sai che l'Italia aveva un rapporto di cambio variabile con la Germania che gli permetteva ogni tanto di svalutare la moneta in modo tale che le nostre importazioni della Germania costavano molto e le nostre esportazioni in Germania diventavano convenienti. E questo ha generato, da quando siamo entrati nell'euro, uno sbilanciamento nella bilancia commerciale con la Germania, per cui la Germania ne ha tratto sicuramente dei grandi vantaggi, tant'è che hanno un surplus commerciale elevato da tanti anni che è addirittura fuori dai parametri che l'Unione Europea considera accettabile. Quindi questo sicuramente è vero e quindi non si può dire che è stato un vantaggio l'entrata nell'euro. Sicuramente questo è stato uno svantaggio. C'è stata anche una certa stabilità nella moneta e quindi del rapporto di cambio, perché anche questo è un fattore positivo, ma in realtà il problema grosso, come diciamo sempre, non è tanto l'euro. Il problema è che noi siamo entrati in un meccanismo nel quale non decidiamo più le politiche monetarie. Cioè, le politiche monetarie decise dalla Banca Centrale Europea sono contro gli interessi dei singoli stati e questo veramente è stato il problema più grosso. Ecco, comunque io ritengo che un vantaggio non c'è stato, c'è niente da fare. No, no, no. No, no, perché altrimenti mi sentivo veramente uno che... perché siccome ho espresso il desiderio di avere una nostra moneta, una tutta nostra, che possa, come sì, come abbiamo discusso per molto tempo, che possa risolvere tutti i problemi che ci sono, che ci sono stati e che continueranno ad esserci, se non si arriva a quello che è stato così diagnosticato da voi altri, non se ne verrà fuori. Perché noi una settimana scorsa, come tu ben sai, abbiamo parlato anche di banche fallite, del rischio dei crollo dei mercati finanziari. Ecco, quello che ti chiedo, e ti chiedo ai nostri interspettatori, qual è la situazione delle banche oggi e dei mercati finanziari? Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro? Eh, proprio in parte riprendiamo il discorso che dicevamo prima, cioè in questo momento, ad esempio, la Banca Centrale Europea sta facendo una politica di aumento dei tassi di interesse e quindi sta spingendo il mercato verso un aumento dei rendimenti sui titoli dello Stato. Si vocifera che la Banca Centrale Europea, dopo l'ultimo aumento che ha portato il tasso di interesse a 3,5, voglia fare un ulteriore aumento a maggio. Ma questo significherà che il costo complessivo del debito pubblico, il costo per interessi, aumenterà sempre di più. Per darti un ordine di grandezza, oggi il rendimento sui BTP è superiore al 4%, che su un debito di 2007 comporta una spesa che è superiore a 100 miliardi all'anno. Hai idea di quanti sono 100 miliardi all'anno? Praticamente rispetto ai 60-70 miliardi che abbiamo pagato fino ad oggi, noi stiamo andando tendenzialmente verso un debito che ha un costo per interessi superiore ai 30 miliardi in più rispetto al passato. pensa che il DEF attuale è circa fatto su 3 miliardi di DEF in più. Quindi praticamente stiamo spendendo per interessi molto di più di quello che spendiamo per l'economia reale. E questo non è una cosa possibile. Un'altra cosa che i nostri amici, che bisogna far capire loro, anche di tutto quello che è accaduto nell'anno precedente, e che non in certo qual modo all'inizio dell'anno ancora hanno perseguito. L'Eni, parliamo del L'Eni, che lo scorso anno ha fatto degli utili da capogiro. Pensate, amici che siete a casa, ha fatto un guadagno di 20 miliardi, di cui 13 sono stati divisi tra gli azionisti. 13 miliardi. Ora, adesso non si parla più di aumenti, dicono, però sottovoce, non vedo ancora miglioramenti per quanto riguarda il costo della bolletta, del gas e neanche della luce. Allora io chiedo a te, che sei esperto, che cosa accadrà a noi famiglie, a noi che siamo capofamiglie, insomma, con queste bollette, con questi aumenti, con questi... perché? Oh, non va di sotto, almeno il gas, l'elettricità un po', sì, un po', abbiamo visto i cali, ma del gas non ancora. Ma di fatti, quello che sta accadendo è che noi abbiamo... Intanto, tu sai che il gas è aumentato perché il prezzo del gas è accanciato al TTF, che è un parametro sulla borsa di Rotterdam, che è un parametro speculativo. Se tu vai a vedere adesso l'andamento di questo valore, vedi che c'è stata una montagna di aumento di prezzi fino a dieci volte nel corso del 2022, dal 2021 al 2022. Adesso siamo tornati ai livelli pre-2021, ma il prezzo che è aumentato nel frattempo non sta calando con la stessa velocità. Cioè, noi abbiamo avuto una speculazione finanziaria che ha gonfiato i prezzi di queste aziende, tant'è che l'Eni dimostra, come dicevi prima, che ha avuto degli utili giganteschi. Ma non è che adesso che il prezzo del gas è ritornato ai livelli pre-crisi, i prezzi scendono. In realtà fanno fatica a scendere, tant'è che i prezzi rimangono alti a tal punto che l'Eni e le altre aziende stanno facendo utili da faura. E ricordiamo che all'interno dell'Eni c'è anche lo Stato che ha il 30%, quindi anche lo Stato usufruisce di questo vantaggio. Il problema è sempre lo stesso. La speculazione finanziaria gonfia i prezzi, ma poi, quando si tratta di ritornare a prezzi più accettabili, fa più fatica perché le aziende vogliono mantenere gli utili che hanno avuto in maniera facile dovuta a questa speculazione. È sempre il stesso discorso, ma sta succedendo anche per le materie prime, che hanno avuto un'impennata speculativa negli anni scorsi, ma che adesso sono ritornati a valori accettabili, però i prezzi seguitano a rimanere alti con dei guadagni per le aziende molto elevati sulle spalle di tutti quanti noi. Ma scusami, è possibile che il governo non faccia gli interessi dei cittadini? Perché loro, i governanti, vogliono di un mondo assassino. Sono i nostri dipendenti, lo vogliono capire o no? Siamo noi che li paghiamo. Sono lì per nome e conto nostro. Non possono andare contro, non possono portarci alla canna del gas. Come fare, secondo te? Ma guarda, ti ricordi l'anno scorso quando io qui su questa tua rete... Mi va via la voce, Dio Mono. Ti ricordi che io avevo proposto di nazionalizzare l'ENI, che sarebbe costata l'anno scorso circa sui 30 miliardi. Tu pensa che poi ha avuto un utile di 20 miliardi quindi se lo Stato l'avesse nazionalizzata avrebbe incamerato lui l'utile di 20 miliardi quindi avrebbe speso 30 miliardi ma poi avrebbe avuto un utile di 20 miliardi che magari poteva reinvestire nell'economia. Quindi in realtà, perché l'Italia non ha fatto quello che ha fatto la Germania e la Francia che hanno nazionalizzato la loro azienda più grossa, il problema è sempre lì. Noi siamo un po' miopi da questo punto di vista. E come mai allora, scusa, e come mai, spieghiamo ai nostri amici, come mai anche i politici di ieri hanno svenduto tutto quello che era il nostro patrimonio dove potevamo stare non bene, di più, e hanno creato tutti questi call center che sono da rabbrividire in qualsiasi momento. Perché la logica è sempre la stessa. Siccome noi abbiamo un alto debito pubblico, dobbiamo recuperare e abbassare questo debito svendendo i nostri gioielli. Ma se svendiamo i gioielli, poi non abbiamo più gli utili che questi gioielli producevano nel corso degli anni. E quindi poi asseguitiamo ad aggravare sempre di più. Le altre nazioni non ragionano in questi termini. Francia e Germania hanno nazionalizzato l'azienda energetica nel momento in cui hanno capito che questo poteva diventare un problema di interesse nazionale. E il problema è che noi non riusciamo mai a fare politiche nell'interesse nazionale. Ormai Leni è privatizzata, il governo non ci pensa a farla tornare pubblica perché preferisce mantenere queste privatizzazioni nella situazione attuale. Fa comodo. Eh, fa comodo, sì. Probabilmente ci sono interessi. Eh, vabbè, ma quali interessi? Scusa, se devono rappresentarci, se devono far star bene i cittadini, perché non lo fanno, dico io? Perché ci... Ma ci dovrebbe essere un qualcuno... Insomma, dovrebbe... Io vorrei che arrivasse un qualcuno che dicesse qui le cose vanno cambiate. E chi se ne fotte dell'America, chi se ne fotte dell'Europa o dell'Ucraina che sta facendo morire tanti e tantissimi ragazzi, giovani, guerre fondali. Cioè io, credimi Fabio, non ne posso più. Sai qual è però il problema, Vito? Se tu vuoi fare delle politiche di questo genere, quindi a favore degli interessi nazionali e contro gli interessi, diciamo, finanziari fuori dai nostri confini, devi essere autonomo. Perché se tu ogni mese devi emettere titoli di Stato e devi pregare a Dio che te li compri nei mercati finanziari, tu capisci che sei ricattato perché non puoi fare politiche contro questi interessi perché poi il giorno dopo te li fanno ripagare. Che cos'è che dovrebbe fare uno Stato italiano? Emettere dei conti di risparmio che permettano di gestire il debito pubblico internamente senza dover chiedere i soldi in prestito ai mercati? Allora a quel punto tu non sei ricattato. Perché noi diciamo sempre che bisogna tornare a politica di gestione del debito internamente con le famiglie italiane? Perché così tuteli il risparmio degli italiani e contemporaneamente ti affranchi dai ricatti dei mercati finanziari. Se no, non puoi chiedere sempre i soldi in prestito e poi sperare che chi te li presta accetti che tu faccia politiche nell'interesse nazionale. Non è possibile. Certo. Ascoltami vai, ti vedo riposato comunque beato te ti sei riposato tranquillo sereno non hai problemi quindi dopo che avete fatto quel interessantissimo convegno alla Camera dei Deputati ecco che cosa avete in programma per quanto concerne le prossime settimane per portare avanti il vostro progetto? avete voglia mi siete stancati avete trovato un muro tanto per capire sai qual è la frase che ha fatto nascere l'applauso più grosso alla Camera dei Deputati? quando io ho detto loro non molleranno facilmente ma noi non molleremo mai perché la nostra azione non si ferma alle cose che succedono perché chiaramente è sempre difficile riuscire ad approvare queste cose però l'importante è essere convinti e proseguire sempre imperternti a ripetere sempre le stesse cose perché arriverà il momento in cui l'Italia sarà in difficoltà e gli unici che hanno delle soluzioni siamo noi quindi dovranno per forza ascoltare queste nostre ipotesi quello che stiamo facendo è facciamo un libro sul convegno stiamo riunendo tutti gli atti di tutte le relazioni che sono state fatte sai che c'erano 16 relatori diversi c'era Carlo Freccero Paolo Becchi Guido Grossi Nino Galloni insomma tutti i personaggi Francesco Carraro ripetimi Francesco Carraro certo Ilaria Bifarini che tu conosci insomma quindi tutte persone che sono passate a Canal Italia anche per merito tuo quindi faremo questo libro ci sono già i video pubblicati su BioBlu di tutto quanto il convegno ma ce ne sono tanti altri tanti altri case editrici perché andate alla BioBlu ci sono tanti altri no 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 questo per quanto riguarda il video per il resto sì sì scherzo dai ma d'altro canto Vito cioè al fine a parte te e BioBlu voi di Canal Italia e BioBlu non è che in Italia diciamo ci aprono le porte facilmente purtroppo l'informazione è quella che è non so no ma ci sono tantissimi altri personali tu pensa all'ultima che ho sentito e sto così cercando di recuperare un po' di tempo chiedo scusa anche ai telespettatori che Roberto Rauli sta terminando alcune cose e adesso arriverà da noi anzi quando arriva mi fa un piccolo cenno perché è sempre impegnato il ragazzo e quindi stiamo un po' di più a chiacchierare tu pensa che c'è stato uno che ieri mi ha telefonato chiedendomi Vito posso avere credito un giudizio un parere se posso ho detto se sono all'altezza ah ho dice una cosa così normale e semplice ma sei io ho invitato cosa di come si chiama il condottore di fuori d'accordo aiutami omnesia adesso Giordano 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 Mario Mario Giordano l'ho invitato perché ha pubblicato un nuovo libro l'ho invitato una sera però tantissimi mi stanno dicendo ma no ma proprio lui guardate che non vi siete reso conto di nulla perché dovete sapere che lui è ancora invece legato a mainstream e per fare quello che fa è pagato tanto che ho detto io ma chi è sto matto o questi matti che hanno hanno detto queste cose secondo alcuni no alcuni quelli che sono pazzi che vogliono far passare Mario Giordano per uno che si atteggia fa l'attore il martedì sera e anziché dice la rubrica controcorrente che ha fuori dal coro dovrebbe essere scritta pagato da mainstream per deviare un pochettino l'attenzione eccomi qua ma io di cosa cioè non riesco mica a capire dammi tu una delucidazione guarda l'informazione è veramente difficile riuscire a barcamenarsi sull'informazione come è oggi è veramente complicato non è facile distinguere tra l'informazione vera e l'informazione mainstream Mario Giordano sta conducendo delle battaglie abbastanza importanti e quindi dice delle cose fuori dal discorso mainstream quindi faccio fatica a pensare che possa essere pagato da qualcuno che ha interesse a proseguire su questa situazione quindi da questo punto di vista può essere che si mettano in giro queste voci per denigrare quello che dice perché visto che delle volte dice delle cose che sembrano molto pesanti il fatto di dire che è pagato dal mainstream ne sminuisce il valore ma questo guarda capita anche a me te lo dico già guarda spesso mi capita che mi accusino anche a me di essere pagato dal mainstream perché dicono che le cose che io dico sono a vantaggio di questo di quello quell'altro ma lo fanno per denigrare quello che diciamo visto che è piuttosto rivoluzionario per denigrarci ci affiancano al potere noi siamo giovani e forti e continueremo le nostre battaglie ciao Fabio ciao Vito un abbraccio un abbraccio grazie buona giornata alla prossima grazie a tutti grazie a tutti